ok quando è carico carico qualcosa secco non salta veramente una ceppa eh eh maggi ok aspettando che mi arrivi altre attacche di scudi allora andiamo un po' prima cosa oh a bada quanto cazzo lo vendo l'oro qua? a mille e cinque si quindi l'oro qui è giusto imperia slave perfetto e questa è la stazione buono non c'è avere un nome lungo parker parker city non è un nome lungo allora quindi aspetta che mi aggiorno il file letto di merda giusto fammola aggiornare pure a me ok quindi abbiamo detto 34 pegasi la stazione è l'unica che c'è vero? ehm no però funziona web quella va bene non è l'unica che c'è però è buona web comprare goal poi l'altro sistema l'altro è se pontet se pontet scritto così la h finale se pontet ok scusa so pontet so pontet so pontet stazione parker parker city eccovi oh niente niente di particolare ho solo bestemmiato dietro perché sei scomparso senza dirgli il nome della stazione vai tranquillo però mi hai detto che era la terza stazione dal sole però che aveva il nome lunghissimo ed ero molto confuso perché non c'erano nomi lunghissimi parker city in effetti non è un nome lunghissimo però mi ha detto culo era la terza stazione e ha corrisposto in effetti allora molto bene sto uscendo dalla stazione bene ma in quale sistema sei te? c'ho un buono io allora lui sta asciugando non sei ancora uscito? no allora qui c'è task manager c'è a posto 5 games curatemi buona fortuna buona fortuna perchè st'affare l'ho guidato solo una volta tipo in beta coddio se non si muove eh veramente fermo guarda veramente fermo guarda che è fermo guarda che è fermo è veramente fermo è per di più occupi tutto lo spazio di uscita quindi è beccano sicuro quello non è un problema per lo spazio di uscita e il problema è occuparlo per breve tempo lo spazio di uscita comunque busta riesce anche a bustare si è a 200 a 200 e ti la menti? ah minchia ma non sono più muslocked ma dovete succarmi la minchia siete dei pipponi di merda oddio eh no non sei muslocked no sei tu che muslocki loro si ma tipo a mezzo metro dalla stazione non sono più muslocked eh infatti ecco da puoi puoi tenere fermo l'intera stazione non è molto bassa pezzo di mare dell'un victor mi ha fatto venire un infarto tu che cazzo ci fai qua vittoria interromputo